...per Cristo che si fa gioia a tutti, l'opera che era, l'opera. E allora per me, Gesù, è la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita, la mia vita. E questo è il nostro pensato di vita. Anche qui, in questo caso, canti, nel ritorno, magari, per ritarne quali parole o quali parole diciano, non so che cosa è che. Nel ritorno, Gesù, grazie, allora vai. Gesù, grazie, allora vai. Gesù, grazie, allora vai. Gesù, grazie. Gesù, grazie, allora vai. Gesù, grazie, allora vai. Gesù, grazie, allora vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.